Ben trovati a tutti voi. Oggi andiamo idealmente in campagna a Napoli a Casal di Principe. Lo facciamo grazie ad attività presenti sul territorio da tempo e c'è anche una bellissima novità. Ne parliamo con Giuseppe Marino, responsabile dell'Opera Don Calabria in campagna. Bentrovato e grazie. Grazie a voi per l'opportunità e anche per l'occasione di poter raccontare e testimoniare che cosa l'Opera Don Calabria sta facendo da tanto tempo in campagna. Per un territorio che è diverso da questo, anche lì con le sue criticità, veramente siamo curiosi di fare questo viaggio insieme a te. In questa occasione, in questi giorni, si sta svolgendo a Verona questo evento Shalom Artigiani di Pace, creato grazie al nuovo Ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato. Andiamo a scoprire cos'è grazie alle parole di padre Massimiliano Parrella, casante dell'Opera Don Calabria. Come nasce questo Ufficio Giustizia e Pace e Integrità del Creato, voluto proprio dal Santo Padre? Sì, nasce da una sua richiesta. Eravamo all'incontro dei superiori generali del 2022 a Roma, novembre del 2022, quando viene lanciata la proposta di creare questo Ufficio per ogni congregazione. E allora ci abbiamo pensato, ci abbiamo riflettuto, abbiamo deciso di aderire perché ci sembrava molto carismatica come Ufficio, come aspetto, come strada da seguire e soprattutto ci sembrava molto in linea con il nostro carisma, perché se vogliamo testimoniare la paternità di Dio, oggi lo dobbiamo fare in maniera concreta, parlando di quelli che sono i temi urgenti che il mondo oggi sta vivendo. Che novità può portare in particolare nell'epoca di oggi questo Ufficio e come voi state cercando di fare i primi passi? Beh, parlare... comincio con la pace, per me è la cosa più importante, no? Parlare di pace oggi sembra che sia uno slogan. In realtà non vorremmo uscire dallo slogan e volemmo farlo diventare un cammino, un cammino che vogliamo percorrere per primo noi, ok? Per poi proporlo agli altri, insomma, per farlo poi percorrere agli altri. Oggi parlare di pace non è così semplice, non è così scontato. Vuol dire rimettere in gioco un po' tutto quanto a partire dalle nostre relazioni e anche a partire dai nostri schemi mentali, perché noi siamo ormai fermi su alcune cose, dovremmo avere il coraggio un po' di scardinare questi nostri schemi mentali per aprirci a quello che è il dialogo con l'alterità. La giustizia e l'integrità del creato, altri concetti ai quali il Papa attiene tantissimo? Sulla giustizia noi abbiamo già cominciato alcuni anni fa, soprattutto con le nostre attività che riguardano l'aspetto minorile, no? Noi abbiamo vissuto sempre un discorso di giustizia riparativa, quindi diciamo che il percorso sulla giustizia già è cominciato. Oggi dovremmo cominciare a parlare anche di giustizia sociale, domandarci che cosa vuol dire e come possiamo contribuire per realizzarla, no? Ci sono tanti modi, i carcerati piuttosto che gli immigrati, piuttosto che le persone, le famiglie indigenti, piuttosto che, insomma, ci sono tante situazioni che richiedono oggi, che gridano e che richiedono un ascolto particolare. E l'integrità del creato vuol dire anche fare scelte concrete a partire dalle nostre comunità. Ripetono, questo cammino prima di proporlo agli altri è un cammino che dobbiamo fare noi, quindi ci stiamo interrogando anche su come ripetere il discorso dell'energia, ripetere il discorso di riciclare le cose, cioè è qualcosa di molto concreto, non deve rimanere sul teorico, ma deve cadere sulla prassi quotidiana di tutti i giorni, insomma. Ed è uno stile che voi, così come le altre congregazioni, farete assumere ad ogni delegazione dell'opera e in particolare oggi si parla anche di questo nuovo progetto in campagna. Sì, noi abbiamo costituito un ufficio centrale qui, perché qui nasce e qui vogliamo che si sviluppi, però abbiamo chiesto a ogni delegazione in giro per il mondo di mettere un suo ufficio che collaborando con noi possa avviare questa riflessione. La mia stessa lettera, seconda che ho scritto a tutta la famiglia calabriana, parla proprio di questi temi, tanto che l'ho intitolata con il titolo Shalom, da cui prende il nome anche il convegno di oggi. E in campagna, a Casal di Principe, nascerà quella che è una prima attività, se volete, una prima proposta concreta, che è una scuola di giustizia, pace e integrità del creato. La chiamiamo scuola, ma in realtà è un laboratorio, dove insieme la costruiamo. Non portiamo contenuti, ma li andiamo a cercare insieme e li costruiamo insieme. Come dicevamo poco fa, parliamo dell'impegno dell'opera Don Calabria in campagna, Napoli e poi nella seconda parte vediamo anche Casal di Principe, questa bellissima novità. Giuseppe, raccontaci un po' intanto quando nasce l'interesse dell'opera Don Calabria per le persone in difficoltà in questa zona. La presenza del Don Calabria a Napoli in realtà nasce oltre 40 anni fa e nasce soprattutto perché i religiosi del Don Calabria iniziano ad occuparsi di assistenza in carcere, poi successivamente iniziano le attività in parrocchia, quindi con delle parrocchie. Attualmente il Don Calabria è presente nelle parrocchie, in due parrocchie della città di Napoli e dal 2008 si è strutturato pian piano anche l'attività sociale della presenza dell'opera e quindi con il mio arrivo in Campania. E tu sei proprio di lì, sentiamo l'accento. Sì, sì, io sono della provincia di Caserta, di San Cipriano d'Aversa, quindi un paese vicino a Casal di Principe. Ho conosciuto il Don Calabria intorno agli anni 2005-2006 perché lavoravo a Roma e una decisione insomma mia personale mi ha portato a lasciare il lavoro precedente che avevo in Caritas di Ocesana ed accogliere l'esperienza poi. Questa sfida che il Don Calabria voleva avviare a Napoli nel napoletano occupandosi di minori e di giovani e quello è stata insomma la proposta, la chiamata a cui ho detto di sì. Che è proprio il carisma esatto, come nasce l'opera Don Calabria proprio dai minori, dai piccoli. Sì, soprattutto considerando che il Don Calabria poi cerca di leggere i segni, leggere i territori e le esigenze e in Campania, soprattutto a Napoli, non potevamo non occuparci comunque di tutto il tema giovanile, dalla devianza al disagio. Alle volte noi sappiamo più quello che non va rispetto a quello che va. Ci saranno tante diciamo anche giovani naturalmente che vivono bene la loro età ma ci sono naturalmente tante criticità, queste le sentiamo spesso nei notiziari o comunque nelle news che ci arrivano. Raccontaci un po' che progetti sociali avete qui. Attualmente a Napoli ci occupiamo di giustizia riparativa, quindi incontriamo giovani autori di reato cercando di accompagnarli nella rivisitazione del loro fatto, il loro fatto reato e la loro esperienza di vita, cercando di favorire poi l'incontro con la vittima, sia un incontro con una vittima diretta ma anche con la società che rappresenta comunque una vittima secondaria rispetto ad un fatto o comunque ad un agito illegale del minore. E scusami, quali reati immagino che siano legati anche alla criminalità organizzata? Cosa vanno incontro i giovani? Attualmente quello che vediamo con un'attività, con un progetto che abbiamo in collaborazione con il centro di giustizia minorile ci ha portato nell'ultimo anno a incontrare oltre 70 giovani per i quali si sono attivati questi programmi di giustizia riparativa finalizzati all'incontro reo e vittima, dove per la maggior parte dei reati segnalati siamo sui reati contro la persona, quindi dalla violenza in primis, successivamente anche a furto, rapina e stiamo seguendo anche dei ragazzi in omicidio. Questo è il disagio in ambito di giustizia minorile che incontriamo come presenza operativa a Napoli. Ci siamo sempre occupati, anche nel passato, anche di promuovere azioni sul territorio per i giovani, per i ragazzi e per le famiglie, volte anche alla prevenzione della devianza e del disagio. Abbiamo gestito e attualmente abbiamo centri diurni in cui ospitiamo giornalmente, non in forma residenziale, 30-40 giovani, ragazzi, soprattutto bambini, con cui fare attività di recupero e di avvicinamento, insomma, di risposta alla loro esigenza che hanno attualmente. E questo succede in modo particolare nell'Internand napoletano, nella città di Afragola, che è un paese a nord di Napoli. Quindi noi, come Don Calabria, la presenza pastorale parte a Napoli centro, continua, perché ci sono le parrocchie, la presenza sociale da Napoli, l'azione sociale del Don Calabria, da Napoli poi si estende nell'Interland napoletano fino ad arrivare poi a Casale di Principe. Ad Afragola siamo in un quartiere, un quartiere periferico della città, prossimo a Caivano. Diciamo, sono nomi che in questo momento, già al sentirlo, evocano purtroppo tanta tristezza e soprattutto tante problematiche. A Afragola, il rione Salicelle, è un quartiere molto difficile, è un quartiere ghetto, è un quartiere dove esiste una sola parrocchia, una sola scuola, timidamente qualche realtà associativa. E da 12 anni il Don Calabria, che è presente con giovani volontari, quindi è del servizio civile, ma anche giovani volontari del territorio che hanno deciso, hanno sposato per bene la causa nostra. E quotidianamente, dal lunedì al venerdì, per circa tre ore, accogliamo una trentina di ragazzi, a cui offriamo un posto in cui poter sentirsi accolti, un posto in cui poter avere degli adulti di riferimento. Naturalmente organizziamo anche attività sul ludico ricreativo. È un cuore pulsante all'interno di un quartiere che segna circa 10.000 famiglie con quei servizi di prossimità. Quali sono i disagi, diciamo, anche del territorio lì che poi immagino che siano espressi anche dei ragazzi che incontrate voi tutti i giorni? È una grande povertà educativa, che nasce purtroppo da famiglie in difficoltà, da famiglie non ambienti, ai limiti comunque, ai limiti della legalità, perché quando non c'è un lavoro, quando non c'è, non ci sono servizi in un territorio, questo è il terreno fertile, perché che poi attecchiscano determinate dinamiche, in modo particolare quelli della malavita organizzata. E tanta voglia comunque di rimettersi in gioco, tanta voglia di trovare la loro strada. Naturalmente poi viene da chiedere i risultati, si vedono chiaro che sicuramente sono anche a lungo respiro poi, questi giovani crescono e si vedrà un domani cosa hanno assorbito. Ma cosa vedete nei ragazzi di riaccendersi un po' la voglia di essere cittadini, di collaborare, di volersi bene, anche di essere insomma ragazzi attivi? Già il fatto che ci sono di per sé è significativo, perché potrebbero non esserci. Già il fatto che vengono tutti i giorni è per noi un grande risultato, ma soprattutto è testimonianza del nostro esserci. Possono fare altro, potrebbero indirizzarsi altrove, scelgono noi. E già questa scelta ci fa capire che riusciamo ad essere per loro testimonianza di paternità. Quando si parla di lotta alla criminalità e attività per la legalità, proprio questo, anche si dice che la criminalità organizzata ha paura dei giovani che si formano, che vanno a scuola, che imparano cose, perché non è scontato. Sì, perché molto anche l'atteggiamento culturale, cioè quando nei ragazzi, nei giovani arriva la cultura, significa che sta arrivando un cambiamento, sta arrivando un modo di vedere il territorio, un modo di vedere la realtà, un modo di riconsiderare diversamente la propria vita. E allora laddove c'è cultura, c'è istruzione, c'è la possibilità, aumentano le possibilità di un riscatto. Torniamo brevemente sull'attività che avete di giustizia riparativa. In cosa consiste, come vedete, che i giovani qui capiscono il loro errore e così maturano? Nel momento in cui si cerca di portare i ragazzi, i giovani, le ragazze, anche se sono molto di meno, sul senso della responsabilità personale. Quando i giovani, i ragazzi che stanno in ambito penale, minorile, capiscono che stanno bruciando, hanno bruciato la loro vita, riescono, si accende quella motivazione sul senso di responsabilità, di consapevolezza. È fondamentale lavorare sulla consapevolezza di quello che si è fatto e delle proprie azioni, delle proprie conseguenze. Se si arriva su quello, riusciamo ad ottenere dei buoni risultati. Quindi dicevamo che state iniziando il nuovo progetto Casal di Principe, già qualcosa c'è in essere e tante cose ancora che vi aspettano. Allora, tra pochissimo ne parliamo. Intanto ne vogliamo tornare a parlare ancora della scuola Giustizia, Pace, Integrità del Creato, grazie a Giovanna Martelli che appunto fa parte di questo ufficio, di questo progetto. Vediamo cosa consiste. Un nuovo ufficio per il Don Calabria è questa scuola, Giustizia, Pace, Integrità del Creato. Quanto è importante per voi e cosa significa questa richiesta di Papa Francesco? È molto importante, non solo per rispondere alla richiesta di Papa Francesco, che ci chiede ad interrogarci, ci porta a riflettere sul valore del creato e quindi su una società che non è più a misura di umanità, ma deve tenere in equilibrio tutti gli esseri viventi che abitano il pianeta, no? Un po' questa è la richiesta. È molto importante perché arricchisce la già ricca opera che è erede di San Giovanni Calabria, no? Preveva l'ossessione della carità e l'ossessione anche della pace, quindi per questo è molto importante. In che modo state cercando di fare i primi passi con questa realtà? L'inaugurazione a Roma, adesso un'attenzione speciale per quello che verrà, compresa l'opera che state avviando nuova anche in campagna. Abbiamo immaginato un percorso a tappe, ovviamente, no? Che è fatto di discussione, è frutto di condivisione, quindi abbiamo fatto il primo incontro a Roma dove c'è stata una riflessione teorica, una riflessione esperienziale. La stessa cosa porteremo, stiamo portando oggi a Verona, che è una riflessione teorica, una riflessione esperienziale che è frutto delle esperienze sul campo, nei luoghi di conflitto e con l'esperienza di chi vive il territorio di Casal di Principe quotidianamente, perché poi il primo laboratorio si terrà appunto a Casal di Principe, che è simbolico rispetto alla costruzione di una società non violenta. E fa parte di Fondazione RUT, partner anche di questo percorso. Ecco, cosa fa Fondazione RUT? Fondazione RUT è una fondazione di ricerca che ha tra i propri scopi statutari il tema del del dialogo, del dialogo interculturale e quello anche dell'andare a comprendere, analizzare, essendo una fondazione di ricerca, quali sono i bisogni contemporanei per una società che deve vivere necessariamente in equilibrio e deve crescere in equilibrio. Per questo motivo abbiamo aderito al percorso dell'Opera Don Calabria sulla Scuola Giustizia, Pace e Integrità del Creato. E come dimostra anche questa giornata, è un progetto dove è bello coinvolgere diversa. In realtà oggi si parla di tanti argomenti, si parla anche di Ucraina, si parla di campagna, insomma, e questa integrità si fa insieme. Questa integrità si fa insieme, nel senso che oggi più che mai dobbiamo davvero trovare la chiave del condividere degli obiettivi comuni, pensare alla coesione e quindi immaginare che rispetto alla costruzione di una società non violenta si immaginano obiettivi comuni e percorsi anche paralleli ma che hanno un obiettivo finale comune. Continuiamo a parlare dell'impegno in campagna dell'Opera Don Calabria con Giuseppe Marino. Allora, adesso, diciamo, da tempo siete impegnati in questo nuovo progetto in una zona molto particolare, nota per la presenza del clan dei Casalesi, a Casal di Principe, proprio in una zona dove la Camorra è presente. Voi come siete impegnati da tempo, cosa si sta aprendo per il Don Calabria? Le attività su Casal di Principe sono in ordine cronologico le ultime che arrivano come presenza sociale dell'Opera in Campania. Il cammino è iniziato già 7-8 anni fa, quando abbiamo iniziato ad ascoltare i giovani del territorio, le istituzioni, quando abbiamo iniziato a organizzare degli incontri con i giovani per cercare di capire da loro che cosa potesse essere fatto nel territorio casalese. Scusami, una domanda. Quanto era compromesso questo territorio più di altri o com'è la situazione in generale in questo luogo dove sappiamo la Camorra essere presente e tagliare le gambe così a tanti giovani, alla speranza e alla vita sociale non solo dei giovani ma di tutta la generazione? L'ultima relazione della DIA del 2022 definisce proprio il cartello camorristico dei Casalesi come quello più efferrato di tutta la presenza della criminalità organizzata in Campania, molto simile alla mafia siciliana che non ha altre forme di criminalità organizzata, per cui andiamo su certe impostazioni abbastanza forti. Casal di Principe oggi è il territorio del cartello dei Casalesi ma non è solo quello e soprattutto non vuole essere solo quello. Da 30 anni a questa parte, perché 30 anni fa successe un fatto che ha segnato la storia del territorio di Casal di Principe, ovvero sia l'omicidio di Don Peppe Diana, è nato tutto un movimento che ha cominciato a coinvolgere famiglie giovani. Il problema non è superato. Oggi quando si parla di Casal di Principe e si parla di Casalesi o sono di quella zona, subito si pensa alla criminalità organizzata, ma è in atto quest'onda di rinnovamento e di riscatto che vuole andare oltre quell'esperienza. E questo nasce ed è stato reso possibile perché proprio 30 anni fa, il 19 marzo, Don Peppe Diana, un sacerdote di Casal di Principe, viene, poco prima di celebrare messa, viene freddato con un colpo di pistola e viene ucciso. Chi era Don Peppe, scusa, che tanti non conoscono? Hanno sentito il nome ma non sanno realmente cosa faceva. E' un prete di frontiera, diremmo oggi, un sacerdote che nel 91 insieme ad altri due parroci di Casal di Principe, iniziarono a denunciare la condizione del territorio marchiata e oppressa dalla camorra. Si dedicava ai giovani, si è dedicato tantissimo ai giovani, si sta cercando attualmente di non far disperdere quel messaggio e lo stanno facendo le realtà del terzo settore che presidiano nel territorio. E noi ci inseriamo in questa, come dire, in questa territorialità proprio perché sul tema dei giovani e in particolare della partecipazione dei giovani ancora c'è molto da fare. Oggi iniziano ad esserci delle esperienze aggregative importanti, ma osserviamo anche questo, che non si vuole essere la terra dei casalesi, del cartello camorristico dei casalesi, si vuole essere ambasciatori, artigiani di pace, ma anche trovando ciascuno un po' una propria strada, trovando ciascuno una propria... E voi, scusami, vado un po' di fretta, la state trovando perché all'Istituto Don Calabrio sono state affidate due villette proprio dei, diciamo, dei responsabili di questo clan dei casalesi, dei boss, e poi un altro terreno è stato, diciamo, affidato successivamente. Raccontaci un po' come vi state muovendo e i primissimi passi che state già facendo concretamente. L'esperienza è iniziata concretamente nel 2023. Nel 2022 ci sono state consegnate queste villette, che in realtà noi avevamo già preso sette anni fa, quando è iniziato il percorso, ma erano totalmente vandalizzate e deturpate. Grazie a una forte alleanza e sinergia con l'amministrazione comunale è stato possibile intercettare dei fondi per la ristrutturazione, sono state ristrutturate le villette e adesso nasceranno in queste villette una comunità di accoglienza per minori e spero, insomma, quanto prima di avviare il servizio. Già abbiamo iniziato le attività territoriali, quindi con le scuole, con le associazioni del territorio, in cui vogliamo portare un nostro messaggio di pace. Attivo alle villette c'è un piccolo campetto sportivo che serve per le attività più aggregative, più ludiche, messe a disposizione dei ragazzi proprio del territorio, al di là dell'appartenenza o meno alla comunità residenziale. E in ultimo un gruppo appartamento, quindi una piccola struttura staccata dalle villette per i giovani dai 18 a 21 anni che hanno bisogno di un percorso di semi-autonomia. Sganciandosi dalla comunità avranno l'opportunità e hanno l'opportunità di appoggiarsi per ricostruire comunque la loro presenza e il loro progetto di vita. Questo si realizza nel cuore di Casal di Principe grazie alla presenza del Don Calabria che nel 2022 ha iniziato piano piano ad essere presente, cercando di anzitutto partire dal territorio. È fondamentale partire dalla domanda di pace con territorio di porta. Ed è questo quello che stiamo facendo. E cosa emerge dai primi approcci così? Emerge un'aspettativa perché Opera Don Calabria è conosciuta, quindi siamo già operativi ad Afragola, siamo già operativi a Casal di Principe, ma siamo operativi in tante altre parti d'Italia e del mondo. Per cui c'è un'aspettativa perché entra una congregazione. La diocesi di Aversa ha poche congregazioni religiosi presenti nel territorio e a Casal di Principe è l'unica presenza religiosa maschile. Quindi scusa, non si vede un'associazione qualsiasi, ma una realtà che ha qualcosa di più. Sì, si vede una congregazione, si vede un istituto religioso, una congregazione religiosa che entra in un territorio, che vuole lavorare in quel territorio, con le comunità di quel territorio per un bene collettivo e lo fa portando la testimonianza di San Giovanni Calabria. E quindi ecco, state avviando questo, ecco questa è l'attività che avete in essere in questo momento, attività con il territorio? Attività con il territorio, per cui siamo già presenti con diverse attività, dallo sport alla promozione di iniziative culturali. Noi lo facciamo da soli perché abbiamo creato una sinergia territoriale, siamo entrati in sinergia con il territorio, con quella parte del territorio che naturalmente vede nella nostra testimonianza un valore affine, che è quello di portare chiesa, di essere chiesa. Nasce un'altra domanda, qualche ostacolo, qualcuno che non vi vede bene, come fate? Oppure insomma, gli segnali sono incoraggianti? Per adesso la nostra è una presenza timida, busetetaneta per dirla alla Veneta e probabilmente vedremo che cosa succederà. È un cantiere aperto, è un laboratorio che ha appena iniziato, è un laboratorio che sta coinvolgendo non solo l'opera Don Calabria di Napoli, ma sta coinvolgendo la congregazione nel suo mandato missionario e magari la prossima volta ci vedremo presto per altri aggiornamenti. La state caratterizzando anche a seconda delle direttive che arrivano dalla scuola, giustizia e pace, integrità del creato, ci vuol dire qualcosa di questo? Sì, non può esserci un intervento sociale o comunque pastorale dell'opera se non si rifà anche all'invito che fa il casante padre Massimiliano sull'essere artigiani di pace. Non stiamo inventando nulla di nuovo, stiamo solo rivedendo, rivisitando, riqualificando la nostra presenza e l'operato di tutti noi laici della famiglia calabriana in un'ottica di costruttori di pace. Bene, allora grazie tante, buon ritorno poi a Napoli e insomma il progetto si fa interessante e speriamo di vederci presto con altrettanti risultati. Grazie. Grazie allora Giuseppe Marino, responsabile dell'opera Don Calabria in Campania per essere stato con noi, grazie anche a voi per averci seguito, buon proseguimento.